La politica pugliese e in particolare a quella di centrodestra non poteva toccare sorte peggiore di quella di dover chiedere aiuto alla Lega per risolvere o tentare di risolvere i suoi problemi, niente meno. La destra pugliese è così debole ormai, sbandata e a questo punto è inaffidabile da acclamare Salvini come il salvatore della patria. Salvini, quello che fino a qualche mese fa, possiamo dirlo, sputava veleno sul sud e sulla Puglia. Qualcuno sarà impazzito, non ci sono più dubbi. Un conto è allearsi con la Lega al nord o anche a livello parlamentare come hanno fatto nel passato Forza Italia, come ha fatto anche l'allora il Partito Democratico di oggi, ma allora si chiamava diversamente, ma l'hanno fatto anche loro. Un conto è allearsi con la Lega in Liguria, in Veneto. Altro è chiamare la Lega a dirimere le questioni interne del centrodestra pugliese, ma con quale faccia, con quale dignità? Chi ha il coraggio di sostenere che la Lega sia cambiata solo perché ha cambiato nome, ora si chiama Noi con Salvini o solo perché non fa più manifestazioni di piazza contro il sud, evidentemente vive in un altro mondo, perché non si è accorto che la Lega sia cambiata, ma in peggio. Un partito che fra le altre cose sostiene che per esempio i clandestini, che ne facciamo dei clandestini? Beh, lasciamoli in mare ad affogare. Ma un partito del genere può trovare simpatizzanti in una regione come la Puglia, che proprio per l'accoglienza ha dato ai clandestini, ha sfiorato il premio Nobel addirittura. Ma quale affinità, quali valori culturali possiamo condividere con Salvini, con la Lega Nord? È possibile che siamo diventati così ciechi? Adesso lo accogliamo Salvini come il salvatore della patria? Un conto è la considerazione e il rispetto anche che si deve ad ogni attore politico, quindi anche a Salvino. Ma altro è farsi usare, strumentalizzare, pensare di risolvere i problemi interni, pigliandosi un Salvini che al primo momento ci taglierà la testa. Beh, pensavamo che il centrodestra pugliese o parte di esso stesse male. E però purtroppo adesso dobbiamo prendere atto che è davvero in coma profondo.